Ciao a tutti da Magicolo Ogni cosa ha un inizio e una fine Ovviamente non stiamo qui a parlare della fine perché sarebbe troppo triste Però l'inizio ce l'abbiamo avuto tutti, se no non saremmo qui oggi E quindi io penso che ogni cosa che ha avuto un inizio E ogni cosa che si è formata, è andata avanti nel tempo E si è messa in evidenza, si è formata, si è cambiata Ha fatto dei progressi Allora secondo me deve essere anche consapevole di qual era il suo inizio Perché molte volte noi ci dimentichiamo qual è il nostro inizio Come siamo arrivati fino a qui, la nostra infanzia Molte volte anzi tendiamo a rinnegarla Perché abbiamo fatto qualcosa che magari non ci piace Magari qualcosa che vogliamo nascondere E invece io credo che sia giusto ricordarsela E quindi siccome il mio canale è soprattutto fatto per i gameplay Per i videogiochi Allora ho deciso di caricare questo video Un video forse inutile perché è vecchio questo gioco, è un flash game Questo è un video del 2009 mi sembra Dove ho fatto il mio primo gameplay Che non era per essere caricato su youtube E neanche per essere condiviso Ma era solo un gameplay Non era un gameplay, era solo un video fatto perché c'era una persona Che diceva che questo gioco era impossibile da fare, da finire E io ce l'avevo fatta come adesso avete visto E avevo finito questo gioco E ce l'ho riuscito Ho detto cavolo ce l'ho fatta, meno male Meno male che ho registrato Il tempo che adesso sta trascorrendo non è un fermo immagine Ma è perché ero andato a chiamare quest'altra persona per dirgli E guarda l'avevo finito questo gioco Quindi è possibile da fare È possibile da finire E quindi ho detto cavolo ma se Ma se Se sono l'unico ad aver finito questo gioco Chissà com'è Chissà gli altri magari se ci riuscirebbero E allora ho deciso di andarmi a guardare Un po' in giro E soprattutto su internet ho visto che Esistevano dei gameplay, delle persone che mettevano dei propri gameplay online Su youtube E ho detto cavolo Ma scusa Se io riesco a finire questo gioco magari sarò un po' bravo Allora magari se provo a fare altri gameplay Questo ovviamente lo lascio lì Magari lo caricherò un'altra volta E intanto vediamo E così è iniziato tutto Una cosa molto semplice E senza ovviamente pensare alla partnership Perché non sapevo nemmeno cos'era la partnership E niente Allora ho detto ma sì dai proviamo Tanto è solo per divertirsi Non c'entra niente i soldi Il tempo Era solo un passatempo E pensavo di 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 iniziare così E adesso sono arrivato invece a due milioni Più di due milioni di visualizzazioni Più di mille iscritti E tutto questo solo per Per passione Perché questo non è sicuramente il mio lavoro Ma Ho cominciato magari a guadagnare qualcosina E niente Volevo solo dire a tutti che Non dovete stare lì a guardare la partnership e i soldi Perché secondo me non c'è divertimento così Rischiate veramente di Di sbagliare tutto Quindi io dico se volete fare qualcosa perché vi piace Fatela Ma se non vi piace magari un tipo di videogioco Perché continuare a giocarci? Non credo che abbia molto senso Anche se piace agli altri Perché continuare a farlo? E questo Questo è il mio canale Io non faccio Gameplay di giochi che non mi piacciono Faccio solo Al masso se ne faccio Ne faccio uno Tanto per provarlo Per dare la mia La mia impressione Questo è tutto Da Magicolo E al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti